Carissimi ascoltatrici, carissimi ascoltatori di Radio Speranza, pace e bene a voi tutti chi vi parla Don Massimiliano e insieme riflettiamo sulle letture della domenica della seconda di avvento, domenica prossima 6 dicembre e possiamo dare già un titolo a questa domenica, il richiamo che ci viene dal Battista Giovanni, convertitevi, convertitevi, la salvezza non è qualcosa che sta fuori dal tempo e l'Evangelista Luca inserisce la predicazione di Giovanni nella storia del mondo pagano e in quella del popolo di Israele ci sono delle situazioni politiche molto speciali e complicate, lì dove si manifesterà Gesù preparato dalla predicazione di Giovanni Luca colloca l'attività del Battista più o meno nell'anno 15 del governo di Tiberio, imperatore di Roma quindi siamo più o meno nel 27-28 dell'era cristiana Tiberio fu imperatore dal 14 al 37 dopo Cristo e nell'anno 63 prima di Cristo l'impero romano aveva invaso la Palestina e Pompeo era arrivato a Gerusalemme imponendo una dura schiavitù le rivolte popolari si succedevano una dopo l'altra e soprattutto in Galilea ma furono duramente represse dalle legioni romane dall'anno 4 prima di Cristo fino al 6 dopo la morte di Erode il Grande durante il governo del figlio Archelao la violenza si fece sentire in tutta la Giudea e questo fatto spinse anche Giuseppe e Maria a far ritorno a Nazareth in Galilea e non a fermarsi a Betlemme in Giudea come ci racconta l'evangelista Matteo nell'anno 6 Archelao fu deposto e la Giudea fu convertita in provincia romana con un procuratore nominato direttamente dall'imperatore di Roma e uno di questi sarà Ponzio Pilato che governerà dal 26 al 36 questo cambio di regime politico trasse una certa calma ma sommosse sporadiche come quella di Barabba Barabà e la conseguente repressione romana ricordavano l'estrema gravità della situazione bastava che qualcuno attizzasse le braci per far scoppiare l'incendio della rivolta la calma era appena una tregua un'occasione offerta dalla storia da Dio perché il popolo potesse fare una revisione del cammino realizzato e così evitare la distruzione totale e Roma era crudele nel caso di una sommossa l'avrebbe fatta finita con il tempio, con la nazione, con tutto per ultimo si fa menzione dei dirigenti religiosi rappresentati da Anna, Anania meglio chiamarlo Anania e Caifa ma chi comandava era Anna anche se questo Anna era stato deposto dai romani e lui sapientemente riusciva a piazzare sul trono del sommo sacerdozio i suoi parenti più stretti verso l'anno 28 d.C. più o meno nel gennaio ed è nel gennaio del 28 Giovanni Battista appare come profeta nel deserto Luca parla della grande attesa che si creò tra le genti attorno alla predicazione del Battista che annunciava un battesimo di conversione il rito dell'immersione nell'acqua suggella il perdono ottenuto grazie al pentimento non si tratta di uno dei tanti riti di purificazione che si praticavano nel tempio o nelle case dei ricchi quando ci si immergeva nelle mikve l'acqua che scorre simbolizza bene il perdono con l'immagine del lavare del lavaggio portando via l'impurità del delitto rende pulito l'uomo Giovanni percorre la regione del Giordano predicando un battesimo di penitenza per il perdono dei peccati conversione in greco metà annoia significa cambio non solo della condotta morale ma anche e soprattutto della mentalità cambio nel modo di pensare la gente doveva prendere coscienza del fatto che il loro modo di pensare bagnato dal dievito dei farisei di Erode ossia dalla propaganda del governo e della religione ufficiale era un errore e doveva essere cambiato il perdono porta con sé la riconciliazione con Dio e con il prossimo in questo modo Giovanni annunciava un cammino nuovo per il quale il popolo si potesse mettere in relazione con Dio il cristianesimo nella storia del giudaismo non si riconosce tanto come dottrina quanto e soprattutto come un'esperienza l'esperienza dell'amore di un Dio che lotta continuamente con l'infedeltà del popolo questa esperienza porta il nome di storia della salvezza e la nostra fede è una storia la storia dell'attesa la storia della presenza la storia dell'avvenuta definitiva di Gesù Salvatore ma c'è anche un'altra storia che non è di salvezza ma di potere di oppressione di schiavitù le due storie non si sviluppano a livelli diversi spesso si incontrano si scontrano si mescolano tra di loro ebbene oggi il Vangelo comincia con questa seconda storia di Iberio Cesare Pilato Erode Erode Famiglia e anche Anna e Caifa storia di oppressione e di inganno politico e religioso ma ecco apparire su questo sfondo la parola liberatrice trasformatrice che scende su Giovanni nel deserto e la storia dei poveri degli Anawim e di coloro che non hanno nulla il deserto ma si fidano di Dio del suo progetto e la storia della salvezza che indica strade nuove diverse da quelle ufficiali capaci di aprire possibilità inedite conversione perdono e Luca sottolinea la totale differenza tra la posizione privilegiata dei potenti e la piccolezza del Battista profeta raggiunto dalla parola nel deserto allora vediamo un po' la predicazione del Battista dal VI secolo prima di Gesù la profezia era cessata ormai i profeti non esistono più si diceva e così recita anche il Salmo 74 la gente viveva con la speranza dell'arrivo del profeta promesso da Mosè questa lunga attesa terminò con l'arrivo di Giovanni egli era considerato dal popolo non come un ribelle dello stampo di Barabba né come uno scriba o un fariseo ma come un profeta atteso da tutti molti pensavano che fosse il Messia al tempo di Luca verso gli anni 80 c'erano ancora delle persone soprattutto dei giudei che consideravano Giovanni come il Messia e guardate quando sono stati in Iraq due anni fa ho incontrato la comunità dei Mandei i Mandei sono una comunità religiosa che non è né cristiana né nemmeno musulmana che crede che il Messia sia Giovanni Battista come anche i Giovanniti in Israele qual è il luogo della predicazione del Battista? è il deserto l'Eremos e il deserto che costituisce lo scenario della predicazione stessa proclamazione profetica il Battista è considerato come il più grande profeta simbolo del profetismo escatologico che si realizza nella presentazione di Gesù e del suo Messia a differenza dei sacerdoti del tempio e dei farisei Giovanni non dimentichiamoci attenzione perché non dimentichiamoci che il papà di Giovanni era un sacerdote Zaccaria sacerdote della classe di Abia e quindi anche Giovanni era un sacerdote perché a quel tempo non si diventava sacerdote per vocazione ma per nascita perché eri figlio di Giovanni era un sacerdote che però rinuncia al proprio ministero per seguire una nuova missione che accentua il motivo del deserto e propone un nuovo esido esodo che deve partire dal cuore il battista è voce che grida nel deserto e l'evangelista interpreta questa missione guardando il comportamento di Giovanni qual è il contenuto della predicazione del battista Giovanni attrae le moltitudini predicando un battesimo di conversione e di perdono dei peccati segno che la gente voleva cambiare e desiderava entrare in relazione con Dio in un modo nuovo Giovanni che lascia il sacerdozio lui stesso si rende conto che quell'innumerevole elenco di sacrifici compiuti nel tempio quel fiume di sangue che scorreva nel tempio per animali sacrificali se via niente Giovanni si rende conto l'importante per lui essere voce di Dio l'importante per lui è richiamare tutti al Dio che parla l'importante per lui è essere l'altoparlante di Dio diceva che il fatto di essere figli di Abramo non offriva nessuna garanzia né vantaggio davanti a Dio per Dio la pietra e il figlio di Abramo sono la stessa cosa perché io vi dico che Dio può far nascere figli di Abramo da queste pietre quello che dà valore alla persona di fronte a Dio non è il privilegio di essere figlio di Abramo ma la pratica che produce buoni frutti Luca indica tre categorie di persone che vanno a chiedere a Giovanni che cosa dobbiamo fare c'è il popolo ci sono i pubblicani e ci sono i soldati popolo pubblicani soldati la risposta per il popolo è semplice condividere i beni e la condizione per ricevere la visita di Dio e passare dal vecchio al nuovo testamento nella risposta ai pubblicani e ai soldati Giovanni chiede la stessa cosa ma applicate alla loro categoria i pubblicani non possono esigere più del dovuto i soldati non possono fare estorsioni a nessuno o denunciare falsamente si devono accontentare del loro salario quando Luca scrive come già abbiamo detto verso gli anni Ottanta cita le parole di Giovanni per aiutare i lettori a collocare la sua persona nell'insieme della storia della salvezza per Giovanni il Messia sarebbe un giudice severo che pronuncia un giudizio una condanna forse per questo più tardi avrà difficoltà a riconoscere Gesù come il Messia Gesù non si comportava come un giudice che condanna al contrario e gli disse io non condanno nessuno invece del giudizio e la condanna mostrava tenerezza accoglienza verso i peccatori e mangiava con essi allora poniamoci poniamoci alcune domande preparateci dice Giovanni Giovanni che vive nel deserto nutrendosi di cavallette di mele selvatico lui ci porta la bella notizia della venuta di Gesù alla sua gente battezza con acqua chiede loro di preparare i cuori diventando migliori annuncia che Gesù vuole salvarli dalla loro cattiveria Giovanni nel deserto alza la voce grida grida di fare tutto quello che è possibile per accogliere il Signore che viene usa le parole del profeta Isaia che invitano a fare una cosa che per noi è davvero enorme impossibile abbassare le montagne riempire ogni burrone rendere diritte tutte le vie storte ma è davvero un'impresa così ardua ma si può almeno cominciare a farla perché in questo modo incontriamo il Signore raddrizzare i sentieri cioè avere un pensiero semplice lineare senza troppi giri di testa abbiamo bisogno di pensieri veri nella nostra vita di pensieri positivi buoni riempire i burroni delle nostre fragilità tutti noi portiamo nel cuore dei crateri più o meno grandi più o meno insidiosi delle fatiche più o meno superate ebbene occorre stare attenti a non lasciarci travolgere dalle nostre fragilità o peggio mascherarle l'importante è capire che in ogni momento della nostra vita abbiamo sempre vicino il miglior amico Gesù e il Padre che ci ama sempre spianare le montagne in un mondo basato sull'immagine conta più l'apparenza della sostanza ebbene il fitness ottimo bodybuilding per stare in forma è bene curare il proprio modo di vestire ma occorre aprire qualche palestra di spirit building sarebbe bello uno spirit building qualche estetista del cuore e dell'anima semplicità verità desiderio questi gli strumenti per trovare un sentiero verso Dio e noi siamo invitati a fare un po' di silenzio mettendo a tacere nel nostro cuore i sentimenti di egoismo per lasciare spazio a Dio che ci parla attraverso la sua parola quante situazioni di povertà indifferenza giustizia vediamo o viviamo ogni giorno che cosa possiamo fare noi per raddrizzare nella nostra vita personale che strade storte della società possiamo o dobbiamo cercare di raddrizzare a cominciare da noi stessi forse non ci accorgiamo di quelle persone che ci chiedono aiuto sul bordo della strada oppure preferiamo fare di testa nostra piuttosto che ascoltare i consigli di chi ci vuole bene bene oggi siamo invitati a far risuonare nel cuore con perseveranza con fermezza la parola della consolazione e della fraternità vorrei concludere con una preghiera che traiamo dalla bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia Papa Francesco nella misericordia vultus ci dice nel Vangelo di Luca troviamo un altro aspetto importante per vivere con fede il giubileo racconta l'evangelista che Gesù un sabato ritornò a Nazareth e come era solito far entrò nella sinagoga lo chiamarono a leggerla scrittura e a commentarla il passo era quello del profeta Isaia dove sta scritto lo spirito del Signore sopra di me per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare poveri lieto annunzio a proclamare ai prigionieri la liberazione e c'è chi l'ha vista a rimettere in libertà gli oppressi a proclamare l'anno di misericordia del Signore un anno di misericordia e questo quando viene annunciato dal Signore è che noi desideriamo vivere questo anno santo porta con sé la ricchezza della missione di Gesù che risuona nelle parole del profeta portare una parola e un gesto di consolazione ai poveri annunciare la liberazione a quanti sono prigionieri delle nuove schiavitù della società moderna restituire la vista a chi non riesce più a vedere perché curvo su se stesso e restituire dignità a quanti ne sono stati privati la predicazione di Gesù si rende di nuovo visibile nelle risposte di fede che la testimonianza dei cristiani è chiamata ad offrire ci accompagnano le parole dell'Apostolo chi fa opere di misericordia le compia con gioia con queste parole di San Paolo che scrive la comunità di Roma riportate da Papa Francesco vi saluto pace e bene a voi tutti grazie a tutti grazie a tutti